Musica Ah certo, allora ospedali, cliniche, ecco ovviamente ci arrivano dei dispacci in tempo reale, chiedo scusa anche per questo problema e nel frattempo mi diceva un dispaccio proveniente dalla CNN che questi monitor, questi apparecchi sono utilizzati soprattutto in cliniche, ospedali e in distretti di polizia Vogliamo tradurlo anche per il nostro amico Volentieri, ja, also dieses apparat ist meistens in hospital Ah, soll ich sie doch nicht verarschen? Doch, aber es wird doppien, sì, no, vuole sapere appunto la fonte, CNN Sì, la CNN Oh, CNN Mindus, ok, that's the opportunity of CNN Certo, la CNN poi è abbastanza raccomandabile da questo punto di vista, ecco Allora io direi di passare subito l'esperimento, penso che Stefano sia più vicino alla macchina e quindi probabilmente se lui vuole Molto volentieri, mi sottoporrò volentieri a questo test Sottoporrà questo test Che peraltro è abbastanza pericoloso perché tutt'oggi la macchina presenta dei problemi che non sono stati risolti Potrebbe avere delle influenze negative su di me Altri prototipi? Hanno fatto, sì, lo stesso esperimento è stato tentato anche in Francia, però è finito male È finito male No, ma io le posso assicurare che non ci siano, non ci sono delle controindicazioni Per il progresso della scienza e della tecnica sono sempre d'accordo Non ci sono delle controindicazioni dal punto di vista cerebrale o... Spero, insomma, datemi una conferma perché ovviamente noi non proseguiamo nel nostro esperimento, insomma, in questo caso Sentiamo... sì? C'è Non c'è problema Anche perché la vera fonte della vera macchina è al di là del nostro studio Noi abbiamo in qualche maniera concretizzato così la cosa, ma ovviamente il cervello della macchina è altrove Sono circa 4 metri cubi di materiale, questa è una propagine Certo, certo Una propagine Esattamente, il resto è intrasportabile, sono diversi quintali di roba fra l'altro Ecco, vogliamo prendere questo che lei dovrebbe inserire nell'orecchio destro Sì Va bene? Sì, infatti questo termine si è francese, ecco fatto Allora, vediamo se... Ecco Su questo monitor e vediamo cosa succede Non succede assolutamente nulla, sì Beh, mi sembra di vedere qualcosa di un po' particolare Commentiamolo Sì, questo è veramente... Sì, assolutamente i pensieri di mio amico Non potrebbe essere nulla di più altra Grazie, allora per questo contributo Sì, lentamente perché ci stanno delle questioni Ma all'estero va... Io lo sa, purtroppo come ogni italiano, per questo anche che all'estero, anche per questo motivo all'estero siamo conosciuti in un certo modo Certo, vabbè, poi questi sono inconvenienti della diretta, non ne so dire Ma per la scienza questo ed altro Sì Certo Oh, certo, sicuramente Ok, allora qui sera, can we camera? Oh, thank you very much Isn't that a pleasure? Grazie, sì, grazie Ciao 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 Ciao